Vi siete mai chiesti come fossero le armi di Modern Warfare 2 senza denti? Ovviamente raga sto scherzando ecco. Quest'oggi è sperimento sociale, andremo ad utilizzare le armi di Modern Warfare 2 all'interno delle lobby di Modern Warfare 3, quindi armi del vecchio COD dentro le partite del nuovo COD, per rispondere a un mio dubbio, a un mio dilemma esistenziale. Ma queste vecchie armi che ci hanno accompagnato durante lo scorso anno, saranno ancora forti? Potranno ancora competere? Ho preparato un paio di build meta, ci permetteranno di scoprirlo all'interno delle lobby. Io sono pronto, non vedo l'ora e ci becchiamo subito in partita. Ok boys, ho preparato una build del TAC-V che veniva utilizzata appunto sulla CDL, quindi non stiamo utilizzando una build del cavolo, è proprio la build più potente disponibile per quest'arma. Ok, avevo un po' di burst dati, come si dice. Allora raga, remake in lots così, a primo impatto, sembra molto molto buona eh. A primo impatto sembra buona, non mi sembra che sia più scarsa rispetto ad altre armi. Ora cercheremo appunto comunque di dare una conferma a ciò che ho appena detto. Vediamo, allora, aim assist anche. Voglio appunto cercare un attimino di fare più kill per capire una cosa, perché in questi premi istanti appunto ho notato, non so, spero di sbagliarmi, sembra ci sia un aim assist leggermente maggiore sulle armi di Modern Warfare 2. Non lo so raga, qua dentro c'è qualcuno, eccolo, oh cacchio. Dov'è? Ma dov'è? Raga, what? Mi ha letteralmente driblato questo, ok, questo sta scappando. Sei qua sopra eh? Ma cosa stanno facendo? Stava c... Oddio. Oh mio Dio, cosa ne abbiamo fatto a questi? Ok, ora devo darmi un attimo una calmata. Letteralmente è sparito questo, cioè, comunque raga, sono super, non so, sorpreso di questa cosa. Mi sembra molto molto buona questa arma. Eh, appena detto, mi ha distrutto con l'arma di Modern Warfare 3. Però, cioè, pensavo di trovarmi molto peggio. In realtà ci si trova bene, cioè, non è male così. Ho detto, cavolo, non vedo quasi mai gente che utilizza armi di Modern Warfare 2. Aspetta che muto. E quindi pensavo veramente facessero uno schifo assurdo. Invece, eh, guardate, forse hanno un aim assist addirittura maggiore in alcuni casi eh. Sono un po' spaventato di questa cosa, perché potrebbe essere una svolta, nel senso una svolta in negativo. Ok, questo, oh, questo poverino ha qualche... ha qualche problemino. Al pad. Ok. Questo è qua. Buona, buona così. Purtroppo finisco i colpi. È normale, cioè, sparando. Poi, sicuramente, la build da CDL non aiuta, perché ha pochi colpi. Per la pubblica, magari, diciamo che non è la più indicata, ecco. Ok, mi stanno distruggendo. Eccone uno. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Aspetta che scappo. Allora, vi dico, eh, non lo so. In linea generale sembra un'arma molto potente, però è anche dovuto sicuramente alla lobby che non è proprio, insomma, delle più triardose, ecco. Quindi, dopo andiamo a fare un'altra partita, comunque. Con una lobby un po' più di triard sarà leggermente più... Ma dove sono questi, raga? Oh mio Dio. Beh, insomma, non sono proprio i più scarsi questi. Però, insomma, diciamo che alcuni mi hanno fatto fare qualche free kill. Adesso finiamo questa partita il più velocemente possibile. E, oddio, buona. Cioè, vedete, sono bravi, dai. Io andrei a prendere questo. Eccolo qua. Buona. Vodo. Ok. Non so se ce ne sia un altro dentro. Oddio. Ok. Eh, raga, cioè, le aim assist è spaventoso. Mi sembra che sia molto più potente questo qua rispetto alle altre armi, non lo so. Facciamo un'altra e utilizziamo una mitraglietta. Ok, raga, in questa seconda partita voglio utilizzare per metà la Vasnev, che è sempre buildata come se fosse, appunto, una partita di CDL. Quindi, build da torneo, ecco. E poi voglio usare anche il lancement, ovvero l'MP5, che è stato sicuramente su Warzone un'arma molto iconica. Ok, adesso, raga, sono mortissimo. Sono mortissimo. Eh, raga, non potevo fare altro. Ce n'era uno qua. Se non è sparito, raga, riusciamo forse a farcelo. Forse era da fare il contrario. Utilizzare prima le mitragliette e ora il tac W su questa mappa, che è un pelo più grande. E potrebbe, appunto, essere utile un fucile d'assalto, ecco. Dov'è? Oddio. Oddio, raga. Alessio, cosa ci fai là sopra, Alessio? Porco due. Dov'è? È qua, Alessio. Eccolo qua, Alessio. Mamma mia, io non vedevo lui, lui non vedeva me. Eccolo là. Oh, mamma mia, raga, ma sono fortissime, altro che... Perché la gente non le utilizza più spesso? Nel senso, cioè, non voglio invitare la gente ad utilizzarle. Però, effettivamente, raga, cioè, sono... Sono forti, cavolo. Cioè, è più bello utilizzare le armi nuove. E quindi voglio sostenere chi usa le armi nuove, non quelle vecchie. Però, cioè, effettivamente mi stupisce che i tre ardoni non le utilizzino. Perché sono veramente un botto fort... Oddio. Sono veramente un botto forti. Poi io sono una cacchio di pippa. Perché sto beccando un timing del cavolo. Ok. Eh, bravo lui, mamma mia. Infatti mi sa che è il primo, questo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oddio, ho finito i colpi. Ok, è morto questo. Dov'è? Oddio, cos'è successo? Ok, devo tryhardare, ho capito. Non posso prenderla alla leggera, questa partita. Cioè, devo per forza tryhardare un sacco. Quindi ora andiamo in assetto da competizione. Ok, ok. Ok, c'è uno forse ancora a destra. Uno è spawnato là. Dai, Joe, dai, muori. Oh, cavolo. Che spawnsono, cioè, cosa è successo? Poco incrociato ho fatto pure. Va bene. Dov'è? Dov'è lo spawnsor che siete qua? Eh, vabbè, raga, ma che cavolo è? È tosta sta partita. Ma cosa? Ora devo guardarmi tipo ovunque. Raga, letteralmente non li trovo. Cioè, faccio solo fuoco incrociato, non ci credo. Vi prego, cioè, fatemi fare qualche kill. Voglio fare un paio di kill. Niente, oh, cioè. Assurdi. Non mi lasciano fare nulla. Ok. Dai. Falso. Letteralmente, raga, non li trovo. Cioè. Eccolo qua. Ok, abbiamo iniziato da Dio. Sono rallentati tutti. Siamo sotto di quattro kill. No, vabbè, cioè. Non voglio, non voglio pensare a ciò che è appena successo. Letteralmente, raga, non mi spawnano vicini. Cioè, non so cosa stia succedendo. Lentissima a caricare quest'arma. Bravo, bravo. GG. Questo sta parlando un sacco. Mi sta rompendo le palle, vi giuro. Ok, ci siamo fatti la doppietta. Ti prego. Ok, non so come sia successo. Ok. Ok, perfetto. Raga, sto tryhardando, eh. Tryhardissimo sono. Sono in tryhardissimo mode. Ok. Raga, dai. Manca una. Dobbiamo farcela. È qua. Me la sento. No, non me la sento per un cavolo. 29, 29. È qui. È qui davanti a me. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta di pochissimo. Raga, comunque sono veramente super colpito di queste armi. Sono letteralmente fortissime. Avete visto che comunque quando la lobby è più tryhardosa si fa comunque fatica, ovviamente. Non ho notato molta differenza tra le armi di Modern Warfare 2 e le armi di Modern Warfare 3. Anzi, paradossalmente mi sono sembrate con molto più aim assist quelle di Modern Warfare 2. Non ho neanche usato il Launchman, ma se magari vorreste vedere altri video del genere potremo portarlo in un episodio futuro. Fatemelo sapere qui sotto con un like e un commentino. Noi ci becchiamo alla prossima. Un salutone. Iscrivetevi al canale se è quello che è fatto. Bella raga. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.